benvenuti benvenuti cari amici siamo inviti a questo nuovo video naturalmente come sempre vi ricordo di distruggere il bottone di like, iscrivervi il canale e iscrivervi anche il canale tegram oggi andiamo a parlare di bitcoin, ethereum, solana, cardano, phantom, chainlink e infine shiba inu per cui iniziamo subito con questa importante notizia perché pensate anche Tim Cook CEO di Apple ha deciso di investire nelle criptovalute per il momento Apple non ha che intenzione di investire in cripto però attenzione perché potrebbe arrivare questo ma non solo addirittura anche l'accettazione dei pagamenti in cripto per cui sembra che oramai il mercato cripto si stia muovendo tantissimo e il buon Benjamin Cohen non so se lo seguite su youtube ci dice che se bitcoin raggiungesse la capitalizzazione dell'argento avrebbe un valore di 73 mila dollari secondo me andremo a flippare l'argento se raggiungiamo la cap di amazon 93 mila dollari The Alphabet 104 mila Saudi Aramco 105 mila Apple 130 mila Microsoft 133 mila andiamo a prendere l'oro 613 mila dollari non penso che in questa burrano che andranno a prendere l'oro probabilmente nella prossima burrano andremo a flippare questa è un po' la media però per il momento rimaniamo che coi piedi per terra in questo momento il prezzo di bitcoin è di 66 mila 859 dollari ora mi piace moltissimo la struttura che si è andata a creare potenzialmente Mari vorrei vedere ok un retest dei 65 4 questa un po' la media per poi prendere andare su comunque in questo momento la action di bitcoin direi perfetta da manuale ora andiamo a vederci ethereum perché come sappiamo in seguito dell'aggiornamento API 1559 sempre più ethereum sono bruciati pensate 829 mila ethereum in particolare su uniswap dove tra l'altro si pagano delle fee devastanti ok per operare su uniswap andiamo a vederci il prezzo di ether in questo momento 4.744 siamo all'interno del movimento 3 guardate che bel movimento abbiamo ora dove sta andando ether ether sembra vogliare andare in questa direzione quindi potenzialmente la correzione potrebbe arrivare proprio sui 5.000 5.100 magari un retest nuovamente 4.700 per poi prendere e andare su vedremo un po che cosa succederà però dal mio punto di vista i 5.000 dollari su ether sono imminenti e penso anche secondo voi una notizia molto importante quella che riguarda il CEO di discord ok perché ha deciso di integrare ethereum wallet cioè il metamask all'interno di discord guardate qui dall'immagine questa notizia fortemente bullish perché noi sappiamo quanti milioni di utenti stanno su disco e naturalmente ok loro vedranno questi simboli vedranno il simbolo di ethereum e il simbolo di metamask e naturalmente andranno ad interessarsi del mondo delle cripto valute ora se ci aggiungiamo che che discord sostanzialmente vuole dar vita a un marketplace nel quale voi potete giocare ok online è sostanzialmente guadagnare dal gaming online il tutto diciamo condito insieme diventa veramente ma veramente scoppiettante per cui attenzione perché dal mio punto di vista la massa adoption sta sempre più arrivando probabilmente non arriverà all'interno di questa burla ma nella prossima saremo sicuramente pronti questa è un po' la mia idea ne aggiunta phantom wallet sostanzialmente va ad unirsi ok a soliana sostanzialmente i trader di soliana potranno operare all'interno di questo wallet soprattutto per l'utilizzo anche di numerosi servizi del defile quindi soliana che sta sempre più ok integrando maggiori funzionalità e di conseguenza dal mio punto di vista vi ricordo quel video che invece con saveri in cui parlavamo di soliana a 400 dollari io alzo l'asticella ok e oggi vi dico secondo me soliana raggiungerà un prezzo tra gli 800 e i 1000 dollari mi tengo conservativo che avrei una prospettiva un po più alta però naturalmente non voglio condizionare nessuno queste le mie idee naturalmente non sono nei consigli finanziari nei consigli trading però andiate a studiarvi l'ecosistema isoliana ma soprattutto non andate all'in perché vi conosco ragazzi ok c'è certe persone non so perché vanno lì su cardano su soliana e chi l'ha fatto va bene c'è va bene per ora nel senso li sta andando bene però un punto di vista emotivo non so quanti possono tollerare anche un meno 10 meno 20 meno 30 per cento nel breve su queste coin perché lo fanno vorrei ricordarvi anche soliana come sostanzialmente la realtà mai fece pensate almeno 45 per cento ok quindi queste erano ottimali di buy per cui se fate queste cose che secondo me sono irrazionali però se le fate almeno considerate molto il punto di entrata ok magari non lo tollerate emotivamente ora altra notizia molto importante è quella che riguarda il co-founder di reddit di soliana perché sostanzialmente vanno ok a investire 100 milioni di voglia di per quanto riguarda da il web 3.0 quindi social media naturalmente sappiamo come ne esistono già ad esempio hive thorum vi consiglio di andare a smanettare perché secondo me sono il futuro però naturalmente loro vogliono dare anche a nuovi ecosistemi all'interno dei social media del web 3.0 nel quale naturalmente sarete ritribuiti ora andiamo a darci action di cardano perché so che tra i voi ci sono molti cardano lovers sostanzialmente ora il mio punto di vista abbiamo una cementificazione a 1.90 quindi potenzialmente potremmo tornare sull'inno 90 però non andremo mai più sotto 1.90 questo è un po' la mia idea almeno è breve ora cardano si sta comportando molto bene sta ritestando guardate quante volte ha ritestato la resistenza dei 2.31 una volta due volte tre volte quattro volte cinque sei volte ora secondo me prima o poi ok lo va a passare e se va a passare questa resistenza attenzione perché la prossima sarebbe appena sui 2.80 per cui attenzione a cardano dal mio punto di vista ok sta per esplodere naturalmente lo sono nei consigli finanziari nei consigli trading andiamo a vedere invece un'altra coiner che molti di voi l'hanno sottovalutata e che è phantom vi ricordo come il 30 di agosto c'era stato questo annuncio e per questo vorrei collegarmi anche all'annunci soliana con reddit 30 agosto c'era stato questo annuncio nel quale sostanzialmente ok c'è un incentivo da parte di phantom pensati di 370 milioni perché avesse voluto costruire all'interno di phantom e vediamo che cosa è successo dopo che quella data sostanzialmente perché pensate dal 30 di agosto che siamo in queste zone qui quindi il prezzo era circa di 0 44 c'è stato davvero uno skyrocket molto forte per cui sempre andatevi a vedere le notizie perché le notizie hanno un'influenza sul prezzo ora notizia molto importante è quella dichiarazione fatta sargev nazarov CEO di chaining perché lui pensate la sua idea è che entro il 2022 anche le banche entreranno sulla DeFi di conseguenza noi ragazzi siamo degli early adopters secondo me la DeFi e gli nft sono come bitcoin nel 2013 questo è un problema di era naturalmente magari all'epoca era più facile perché c'era solo bitcoin e si investiva lì però penso che le principali coin sia DeFi che di nft li vedremo anche tra anni per cui vedremo se il buono Sergei avrà ragione secondo me sì mario sarà nel 2022 però sicuramente arriverà ora andiamo a vederci le azioni di chaining chaining ok rispetto ai massimi sta molto lontano e la sto seguendo fortemente questa coin questo oracolo se dovesse di raggiungere oltamai sarebbe un più bel 52 per cento quindi direi ottimo azioni di chaining molto pulita potenzialmente ok non penso che andrà a ritestare questa 39 ascendente potrebbe anche avere un bel movimento rialzista molto rapido come avevamo avuto qui in questa occasione successivamente ma di piccolo scarichino per ritestare la 39 e poi andare su ora andiamo a chiudere con Shiba Inu perché pensate ci sono 10 wallet che detengono il 72 per cento della token supply ora come operare su Shiba Inu? Shiba Inu si compra in dip e basta ok non si compra in parabolica ma in parabolica si vende eventualmente questo deve essere il ragionamento detto questo abbiamo una capitalizzazione al momento scendiamo sotto i 30 miliardi per cui attenzione e questi sono i principali wallet che detengono il token SHIB naturalmente il 70 per cento è calcolato su queste percentuali qui perché se togliete il 41 per cento dal 100 per cento queste percentuali sono il 70 per cento del totale ora disponibile andiamo a vedere quindi l'action di Shiba Inu ok che sta lentamente andando giù questa action mi piace tanto ma davvero tanto ok perché qua che diventate non dico ricchi però fate i gain sulle tip sui crolli non smetterò mai di dirlo ok queste sono lezioni da cui imparare ora che cosa vorrei vedere potenzialmente vorrei magari vedere anche la rotura dei 4 e 8 questo è un problema idea mi piacerebbe tanto attenzione se Shiba Inu perde i 4 8 potrebbe andare ancora giù potenzialmente anche mi posso aspettare un meno 80 per cento ai massimi vediamo qua a dove potremmo arrivare ok non penso di più potenzialmente anche 1.7 1.8 comunque sarebbe una buona action secondo me Shiba Inu si fermerà un po' prima che potenzialmente potrebbe fermarsi in questa zona 3.7 e da un po' di tempo che lo ribadisco fin quando ok sostanzialmente non vediamo un cambio trend attenzione perché Shiba Inu in questo momento è fortemente debole vi ricordo anche che Shiba si comporta al contrario il mercato quando il mercato va alla grande Shiba dampa quando il mercato va giù Shiba risponde per cui attenzione che quello che vorrei dirvi ok la stanno manipolando stanno cercando di buttare fuori chi è entrato dopo e per cui quella che la mia strategia è il momento è di aspettare appena vedrò un cambio trend rientrerò su Shiba Inu attualmente vi ricordo anche i servizi che offro io se volete una lezione individuale di 30 minuti il costo è di 25 euro e in più potete abbonarvi sia al gruppo Elite se volete con un costo di 50 euro e al gruppo premium al costo di 24 euro per cui vi ricordo di suggerire il botone di like, di iscrivervi al canale e ci rivediamo presto